Quando scopriamo di avere questo potere, questo potere di avere un'influenza sulla realtà, non ci resta che scegliere cosa realizzare. Ci sono cose che non utilizziamo semplicemente perché non sappiamo di averle. Allora è bene sviluppare pensieri che vadano verso il nostro obiettivo e non che fuggano da qualcosa. Quindi vedere dove vogliamo andare e soprattutto associare le giuste emozioni. Se associo un'emozione negativa rispetto al mio obiettivo, non farò altro che creare quel tipo di paura, quel tipo di emozione. Se associo un'emozione positiva, creerò in base a quell'emozione. C'è un altro fattore importante, quello di essere convinti di meritarlo, poiché spesso il flusso viene bloccato anche da questo. Meglio prendere il controllo di questi pensieri e di queste emozioni.